ciao e benvenuto in questo video dove vado a parlarti di quelli che secondo me sono i nuovi dieci comandamenti senza nulla togliere ai comandamenti creati dalla religione questi comandamenti ma devono suonarti come dei consigli hanno l'obiettivo di portare nella tua vita più serenità e prosperità e comincerei con il primo che cita testuali parole co crea intenzionalmente e senza nessuna aspettativa l'universo è più saggio di te lascia fluire e tutto arriva il secondo comandamento dice non perdere di vista il tuo risveglio interiore esso ti svela tutte le ricchezze che contieni dentro di te e non avrai persino paura della morte fisica il terzo comandamento dice in ogni decisione che devi prendere ascolta sempre la tua voce interiore essa è fonte di verità e ti indicherà sempre il percorso migliore il quarto comandamento ti dice che benedici ti elogia e ringrazia chi ti critica perché ti dà la possibilità di migliorarti si sempre grato alla vita per quello che hai ogni giorno il quinto comandamento cita testuali parole mangia tutto quello che non ha un cuore la tua essenza la tua mente e tuo corpo ti ringrazieranno il sesto comandamento ma ripeto è un consiglio leggi tanti libri per porre fine all'ignoranza il settimo comandamento fai l'amore lasciandoti andare e senza avere limiti l'ottavo comandamento spegni la tv e tutto quello che riesce a manipolarti mentalmente il nono il penultimo comandamento dice il peccato non esiste la causa principale del senso di colpa semmai un peccato agire pensando di essere un peccatore e infine l'ultimo e decimo comandamento che è quello che preferisco maggiormente che cita testuali parole ebbene sì amati e tutto il resto sarà una meravigliosa conseguenza bene siamo arrivati alla fine di questo video e spero che questi comandamenti consigli possano apportare dei miglioramenti nella tua vita e ti invito a iscriverti se ancora non l'hai fatto nel mio canale youtube per ricevere i nuovi video grazie per avermi ascoltato un abbraccio infinito ciao